C'è un'altra cosa che ci dedichiamo ogni tanto qua in questo spazio, quando decidiamo tutti insieme di fare le pulizie, quello tipo giardinaggio, queste cose qua e altrettanto la rototoia che ci andiamo sempre a pulirla e a farla. Ora abbiamo realizzato questo zambillo qua con l'acqua anche perché qua è frequentato da tante persone, quindi un po' d'acqua qua magari qualcuno che gli viene sede, si può anche rinfrescare. Tutto quello che viene fatto viene fatto a titolo gratuito, c'è questo impegno per il territorio? Assolutamente, tutto fatto così, tutto spontaneo, anzi ci rimettiamo forse qualcosa perché serve sempre qualcosa, anche per verniciare le panche, le cose, facciamo una colletta tutt'assieme qualche euro per mantenerlo così questo posto qua. L'associazione è vera, autentica, fra qualche giorno compie 15 anni di vita, noi siamo veri, autentici e ci siamo da 15 anni con la presenza qui nel quartiere sul territorio di Scigli in Volare. La nostra è un'associazione che promuove delle iniziative, in particolare nel rispetto del territorio, a noi ci piace dove viviamo, che sia un territorio pulito, garbato, ben curato. Mettiamo tutto quello che noi abbiamo a disposizione, specialmente tutto volontariato che facciamo. Ora pochi giorni fa abbiamo fatto il zampillo dell'acqua affinché qualche d'uno di noi magari ha un po' di sete, si desseto, si lava le mani, fa tutto quello che serve perché l'acqua è fondamentale di vita.